Grazie a tutti. Compagnia a ridere insieme. Siamo con? Melania Deo. Allora Melania, una prima impressione su questo primo atto di questa commedia, cosa ne pensi? Mi piace, è abbastanza carina. C'è stato un personaggio che in particolare ti ha colpito? Sì, Arturo. Per quale motivo? Spiegaci un po'. Cioè, è simpatico, mi piace come resida. E vieni spesso a teatro a vedere? Che tipo di manifestazioni soprattutto? No, è la prima volta. Ah, e potresti consigliare ad altri invece di venire a teatro? Ti piace come esperienza? Sì, sì, mi piace molto, lo consiglio. Ok, grazie per averci concesso questa intervista, se poi un saluto da parte dei laboriosi. Ciao.